Musica Amici del campionato universitario, buonasera da Gianmarco Cervi è la seconda partita di serata per il trofeo degli Atenei dal Barona Cottage Roma Capoccia ci scappa la rissa a contendersi i primi tre punti dell'anno della competizione più importante squadra risposte al centro del campo gli ordini del direttore di gara, signor Moretto Roma Capoccia con Luongo, Colassanti, Sciascia, Angeloni, Celani, Bortoli, Pedrinoni, Serao, Casoni e Barbato dall'altra parte ci scappa la rissa con Acanfora, Brebbia, Calvi, Casciato, Luciani, Ramella, Ruggeri e Spigai squadre che si stanno disponendo sul rettangolo di gioco speriamo di divertirci, mettetevi comodi si parte lotta Spigai e la tiene bravo Spigai converge Spigai poi il tocco sulla sinistra, Brebbia le mette al centro per Spigai che spreca malamente grande azione in velocità del ci scappa la rissa ma Spigai mette alto sul bel suggerimento di Brebbia crova sul secondo palo Brebbia controllo così così riesce a prendere il fondo, Brebbia va via, Brebbia al centro palone per Ramella, doppio intervento di Serao che salva tutto Celani Brebbia attacca Celani palone recuperato dal... ci scappa la rissa ancora capitano Brebbia, prova a accelerare Brebbia, c'è Ruggeri al centro, Brebbia va via Brebbia calcia in porta, esterno della rete Spigai cerca Ruggeri anticipato da Sciascia poi Brebbia che botta sul fondo anticipato Bortori occhio a Brebbia che punta la porta va con l'esterno, è buona per Ruggeri controllo così così Ruggeri, Ruggeri calcia con l'interno del sinistro e non sa neanche lui come ma Serao salva in calcio d'angolo che occasione per il ci scappa la rissa Brebbia dalla bandierina parte il traversone colpo di testa e il miracolo di Serao lo ha staccato benissimo al centro dell'area Canfora poi occhio a Ruggeri col sinistro sul fondo cercato Brebbia spalla la porta, Brebbia prova a girarsi poi la mette dentro una grandissima palla per la girata al volo Vittorio la vola ancora a Bortori pallaccia di Angeloni recupera Ramella tocca per Luciani subito in verticale ancora per Ramella con l'esterno va bene per Brebbia però non è che rimane lì Ramella col destro sul fondo dopo l'intervento di Sciascia adesso cominciano ad essere tante le occasioni per il ci scappa la rissa davvero tante tocca ancora per Spigai super la metà campo Spigai però va addirittura no, non è una conclusione è un tocco buono per Brebbia 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 ancora salvataggio in extremis credo da parte di Luongo e calcio d'angolo ancora per il ci scappa la rissa Dublice fischio il signor Moretto squadra da riposo 0-0 super spot si riparte 0-0 possesso ci scappa la rissa Ramella attaccato da Pedrinoni Brebbia si accentra prova a calciare chiude Bortori poi Brebbia che non è nuovo la uscita di testa va addosso a un avversario la palla quasi lontana poi ride Brebbia si rischia Luciani super la metà campo va a verticalizzare buono per Ruggeri Ruggeri sul fondo il suo destro dopo un buon controllo in un'era di rigore ancora Pedrinoni che presta recupera la palla Sciascia serve Celani tocco per Bortori Pallone sul destro Ruggeri lotta la portavia solo per un attimo occhio Bortori dentro Pallone per la conclusione di Angeloni la respinta di Calvi e poi Angeloni la mette dentro il tap in sulla prima respinta di Calvi che era stato bravissimo e alla fine è in vantaggio Roma Capoccia dopo un primo tempo dominato dominato e non ci scappa la rissa è partito meglio Roma Capoccia è andata in vantaggio con Angeloni 1-0 Celani 1-1 doppio pasto va via Celani in trenera di rigore Celani caccia addirittura in porta Calvi in due tempi Ramella alza la testa Ramella prova la conclusione l'ha messa nell'angolino Ramella grandissimo gol è partito secondo me anche un attimo in ritardo Serau ma gran gol di Ramella tiro che è andato via dritto per dritto pulitissimo nell'angolino tutto da rifare per Roma Capoccia 1-1 chiude Roma Capoccia poi Spigai che recupera palla per i suoi attaccato alle spalle Spigai non c'è fallo ce li porta via Celani Celani va a calciare tiro respinto secondo palo è 2-1 di Bortori con l'esterno tutto solo sul secondo palo ma forse c'era un fallo al limite dell'area Bortori la mette dentro torna avanti Roma Capoccia occhio per un buono per Luciani in area Luciani sul fondo Spigai passa Spigai va giù Spigai fallo calcio di punizione per ci scappa la ressa e mi sa che ci scappa veramente qua giallo per Colassanti poi può partire ci scappa la ressa forse l'ultima occasione Ramella Ramella al limite Ramella cerca Ruggeri è anticipato benissimo da Casoni triplice fischio del signor Moretto ha vinto Roma Capoccia 2-1 una partita tiratissima non bellissima ma sicuramente emozionante super spot ramella al limite bicicletta non bellissima ramella al limite